un saluto popolo youtubiano ben ritrovati su batman arkham asylum siamo al terzo appuntamento qui il vostro zeta endgames pronto per far partire questa nuova avventura eravamo rimasti al quando in pratica harley queen ha rapito il commissario gordon dobbiamo seguirla e vedere un attimo fin dove si spinge questa val dracona lei e il suo amico joker andiamo stupido inaffidabile come ha fatto joker a liberanzi che cosa succede no il signor joker non vuole ancora che ci sia no eh so io che ti farei a te so io che ti farei a te messa la poliziotta lì poliziotto cazzo vedi arrivare in giù un ascensione spostati no devo arrivare a batman per arrivare con l'opera no che cosa diavolo è successo cosa serve no eh e se io faccio cosi 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 avanti cos'è il tic 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 i backstate boys che mi vuoi far sentire vediamo boh boh ehi Frank dove sei stato i giocchieri ha fatto ripare altri uomini entreranno dalla parte anteriore del malicopio mi potete finire che passino da questa parte maledizio non è presto ragazzi sono venuti all'ingresso principale i quanti sono bolse no aspetta come diavolo fai a sapere che ma quando ti stanno dicendo eh Frank che cosa stai facendo ti metti là Frank ma che diavolo ma che ci devo fare di qua qui la mia è lì per la porta qui le chiave ah 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 sei proprio un capolavoro Franky una donna potrebbe fare patie per una copertia non c'ho ancora nulla anche qui ehi ma stava a farlo non temere tesoro sai che occhi solo per te si ma sai quanti schiaffo li do a franky lì a franky garage ehi avviso terapia intensiva livello rosso io ho delle mosche quindi vado a fare direttamente che c'è da fare zumpa zumpa e si corre signori avviso i piani inferiori della terapia intensiva sono chiusi in stato di emergenza sono lo spirito di amadeus arpa grazie a... queste guardie non hanno poto montare i sistemi gioccher aveva ragione diamoci dentro non hanno possibilità c'è un botte e' un botte come se tu ci fossi domani aia uuuu tutti voi quanto siete brutti cazzo 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 da zarda eh cazzo è brutto forte brutto forte in faccia Batman come sta andando? caccia di mio padre non ancora ma sono vicino Harley Quinn ha cercato di rallentarmi mi ha fatto cadere addosso l'ascensore e ha funzionato? ovviamente no il contatto non appena arrivo in fondo alla pista premi velocemente modalità detettiva oracle gli uomini di joker hanno preso il controllo del corridoio di trasferimento al blocco di detenzione non mi piace ho ascoltato le comunicazioni di una guardia a quanto pare gli uomini di joker hanno messo le mani sulle armi ecco lo so devo impostare la modalità di visione del cappuccio in modo da isolare gli uomini armati non mi piace capo silenzioso vai così e il primo è andato imbecille cacchio pensavi di farlo andiamo dal secondo uh uh piano piano uh uh piano piano avevo fatto cacchio di K.O andiamo Frank eccoli 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 e il terzo è andato e vai ok e voilà oh guarda chi c'è ti fischiavano le orecchie ma ah che palle immagino che sia meglio usare un'adrezza che sta portando e può giardare forse no sarà una bella sorpresa ahahahahah qui Joker con un aggiornamento sulle novità è un manicomio sta armato sta armato tre arma che idiota avrevi dovuto sapere che è un costume pericoloso fermatelo prima che faccia male a qualcuno e poi vuole e poi e poi chi c'è E vai così Dove cavolo sono? Sei rimasto solo tu contro Batman Oh Che caccio nelle palle Anzi cazzotto nelle palle Si tocca la mano e dice che schifo Joker deve aver capito come sono riuscito a rintracciare Gordon I fronte dell'agente Bowles si fermano qui Minchia Ho bevuto troppamente nel mod Oh, non ho rotto le palle Questi affari qui E' stato per te Batman, da questa parte Ho visto che hai ripulito la stanza Ah, bene Un cuore di leone È stato un massacro Bowles è arrivato dicendo a tutti Di sorvegliare l'ingresso anteriore Ha detto che l'esercito di Joker Stava passando dal cancello principale Due dei miei si sono spostati verso l'uscita E Frank li ha ammazzati Non hanno potuto reagire Bravo Bowles era da solo Pensavo di sì Poi ho visto Harley Quinn È stata circondata dai detenuti di Blackgate Stavano ammazzando tutti quelli che erano nella stanza Non avevo scelta Sono venuto qui dentro e ho chiuso la porta chiave Ma ho visto tutto dalle immagini della sicurezza Avevano una persona con loro Sembrava il commissario Bowles è morto Hanno continuato senza di lui È durato più di quello che si meritava Ecco Giusto Era un verme Eh Mi fai andare via per favore Devo andare di qua credo Ci scusiamo per l'interruzione del programma Jack Rider chiede la linea dalla baia di Gotham Per un'edizione straordinaria Buongiorno da Jack Rider Notizie Flash dalla baia di Gotham Andiamo andiamo Secondo un recente comunicato L'isola di Arkham sarebbe sotto assedio Due minuti fa giochi la tua Ah scusa Non vuole conterrompere la comunicazione Apri Andiamo Andiamo Dai che adesso Batman gli fa il culo a tutti Andiamo 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 and ormai ma sono fuori corri corri con pelala con quale musiche e colonna sonora no ma sbaglio quello sembra un sorrisino non ho fatto a sorrisino no vabbè sbaglio chi c'è di mamozzi minchia ce n'è troppi ok modalità detective piano b che dove cosa devo fare questi che sono poliziotti due armati che so qui la a andiamo a vedere di salvare palla ora ora ascoltate ragazzi ma questi che sono morti ma non voglio ancora che se ne vada dall'isola è morto lo qui no raccogli il nostro dell'intervista si ok va bene tutti gli scagnozzi i criminali gli assassini e le maestre d'asilo che non si stanno occupando della festa devono andare sul posto e fare a pezzi oracle oracle disattiva il sistema di contromisure della batmobile ho visto la base che cosa succede dove ti trovi all'esterno della residenza di arkham deve essere stata harley queen a far scattare l'allarme se gordon è ancora con lei potrebbe finire male ok fatto la batmobile è ancora parcheggiata fuori dalla terapia intensiva a nord di arkham ti ho mandato gli schemi di tutta l'isola ho contrassegnato i punti chiave come la tua auto grazie oracle prego ok ok la batmobile è lì vuol dire che devo andare a destra si ok silenzio 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 e mori e mori pure te ora ci potenziamo eh potenziamo ci potenziamo cioè allora abbiamo detto combo presa speciale uh non disponibile che fa questo non disponibile non disponibile combo batarang colpi combo decisivi potenziamento armatura 1 mmm io mi farei potenzionamento dell'armatura perchè è sempre meglio guarda guarda la guarda la guarda la la mia macchina andiamo ciccio vieni dai ti aspetta dai wow cretino rifatti il setto nasale va guarda la mano c'è una dose di gel esplosivo nel baule della batmobile guarda lì come me l'hanno conciata potrebbe servirmi andiamo recupera vai vai aia su della capoccia gel esplosivo può essere utilizzato per distruggere strutture meno resistenti di arga attenzione le esplosioni potrebbero ferire che si trova nelle vicinanze ci fa comodo Harley ha distrutto la macchina sembra ci sia stata una zuffata devo perlustrare la zona intorno alla batmobile guarda la macchina guarda la macchina guarda la macchina esamina la scena del crimine andiamo un po' oh questa è la pipa di Gordon gliel'ha regalata Barbara non l'avrebbe mai dimenticata in giro scanziana scanziana wild country il tabacco preferito di Gordon è più furbo di quello che sembra mi ha lasciato una pista da seguire ottimo perfetto ho trovato una pipa ok signori per oggi la finiamo qua anche perchè sono a 22 minuti di registrazione non so quanto verrà lungo il video comunque penso che un pochino meno intorno ai 15 16 credo vabbè signori commentate condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo appuntamento con Batman e sulle tracce di Gordon ciao